19 i decessi odierni per covid, 19 nelle Marche, si registrano 10 donne e 9 uomini morti, tutti con precedenti patologie pregresse, tranne un 73enne di Fano e un 85enne di Macerata. Il totale dei decessi arriva a 746 dall'inizio della pandemia. In provincia di Pesero Orbino si contano 417 vittime, 7 invece extra regione. Crescono i guariti da 1558 a 1603 e calano i ricoverati da 1067 a 1043 per coronavirus nelle Marche. Nelle ultime 24 ore le persone assistite in terapia intensiva sono passate da 108 a 106 e in reparti non intensivi da 495 a 471. In leggero rialzo i ricoverati in semi-intensiva da 241 a 244, mentre è stabile il numero delle persone in area post-critica da 223 a 222. Sono i dati dell'ultimo aggiornamento del Gores, il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Tra i positivi 5.426 su 21.949 tamponi, 2.052 sono in isolamento domiciliare, 2.013 il giorno precedente. Tra le persone venute a contatto con positivi, 7.753 sono isolate in casa, 3.363 con sintomi, tra cui 1.158 operatori sanitari. Finora nelle Marche sono state contagiate 22.873 persone, la mappa dei positivi per provincia da conto di 2.195 a Peser Urbino, 1.629 ad Ancona, 837 a Macerata, 363 a Fermo, 254 ad Ascoli Piceno, altri 148 provengono da fuori regione.